Questo video è per capire se la tiroide può avere un'influenza sulla riproduzione, sulla fertilità e sulla gravidanza e anche per capire se persone che hanno problemi di tiroide possono andare incontro a problemi durante i trattamenti di fecondazione assistita e la gravidanza. Punto 1. In una paziente affetta da ipotiroidismo, quindi con elevati valori di TSH e bassi valori di T4, è fondamentale trattare l'ipotiroidismo prima di iniziare il trattamento riproduttivo. Questo è un dogma. Ed è un dogma perché? Perché una paziente con ipotiroidismo va incontro ad un aumentato rischio di aborto e di problemi durante la gravidanza. Per cui trattare l'ipotiroidismo prima di iniziare il trattamento di riproduzione assistita è mandatorio. Una volta che la paziente ha iniziato il trattamento, sono passate 4-6 settimane e abbiamo monitorato il TSH a distanza di 4-6 settimane e valutato che i valori di TSH si sono normalizzati, la paziente rientra nella popolazione delle eutiroide, cioè di quelle persone che hanno la tiroide normale e quindi non va incontro ad un aumentato rischio di aborto o di complicazioni ostetriche. Questo è un dogma. Per quanto riguarda l'ipotiroidismo subclinico e quindi tutte quelle pazienti che si trovano con valori di FT4 normali ma con un TSH tra 2,5 e 4, qui è stata una nebulosa fino all'anno scorso perché alcuni dicevano di trattare per tenere una TSH inferiore a 2,5 e altri invece erano più lassivi e dicevano no, possiamo valutare il TSH ogni 4-6 settimane e vedere cosa succede. Le linee guida attuali dicono questo, che in pazienti che hanno un TSH tra 2,5 e 4 la cosa fondamentale da fare è valutare gli autoanticorpi. Perché? Perché circa l'8-10% delle pazienti con un TSH variabile tra i 2,5 e i 4 può presentare degli autoanticorpi nei confronti della tiroide che sono i TPO, tiroperosidasi o i TG, tiroglobulina. La presenza di questi autoanticorpi ci fa cambiare il quadro. Perché? Fondamentalmente perché avere gli autoanticorpi e un TSH tra 2,5 e 4 ci mette in una popolazione a rischio di sviluppare un ipotiroidismo in un tempo abbastanza breve. Per cui le pazienti che presentano un TSH tra 2,5 e 4 devono essere indagate, la tiroide deve essere indagata in modo più approfondito. con i parametri degli autoanticorpi, quindi il TPO e il TG. Una volta capito se gli anticorpi sono positivi o negativi, abbiamo un approccio terapeutico specifico. In caso di autoanticorpi negativi, quindi assenza degli autoanticorpi, quello che facciamo è monitorare la paziente ogni 4-6 settimane per vedere come evolve e come si comporta la tiroide. Però di fatto non trattiamo, non diamo nessun farmaco. Per pazienti con TSH tra 2,5 e 4 e autoanticorpi positivi, dobbiamo considerare la storia clinica della paziente. Punto 1, dobbiamo capire che questa paziente presenta un elevato rischio di sviluppare un ipotiroidismo. 1. E quindi deve essere monitorata. Punto 2, se la paziente ha già avuto in passato un aborto, una gravedanza biochimica o delle complicanze ostetriche che possono rimandare, ricollegare all'attività tiroidea, la paziente deve iniziare il trattamento con la L-tiroxina. Però di fatto il trattamento con la L-tiroxina deve essere ponderato di paziente in paziente in base ai valori del TSH e alla presenza assenza degli autoanticorpi. In tutti i casi, quando iniziamo il trattamento con la L-tiroxina, qual è la popolazione che inizia il trattamento? Abbiamo detto quelli che hanno il TSH maggiore di 4 o quelli che hanno TSH tra 2,5 e 4 con autoanticorpi positivi e che monitorati a distanza di 4 o 6 settimane tendono ad avere valori di TSH aumentati. Oppure chi ha valori di TSH tra 2,5 e 4 però ha avuto un aborto in passato, una gravedanza biochimica, una situazione ostetica che ci può far pensare ad un problema che può essere risolto trattando la tiroide.